Fede, io ti ho portato qua perché in realtà sono due anni che più o meno sono a Napoli e non amo molto il caos e il traffico e questo mi ha sembrato il luogo più bello che ho trovato fuori dall'ordinario. Ma infatti hai scelto benissimo. Il Petraio è uno degli ultimi villaggi del Vomero e sembra un paese all'interno della città. In generale il Vomero conserva ancora i suoi antichi casali che sono appunto il Petraio, Antignano, Case Puntellate, Vomero e Due Porti alla Salute. E questo è un posto molto particolare proprio perché è rimasto completamente al di fuori del tempo e anche con un panorama meraviglioso. Ed è proprio per questo panorama che mi piace venire qua. Se conosci un altro luogo di Napoli appartato dove vedere i panorami consiglialo qui sotto.